Nella prima serata di oggi, sabato 3 marzo 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio 501 Nsys, Los Angeles 9, in primativo assoluta. Sarà il tregrado, dal titolo Nuovi equilibri. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa, Callen, Chris O'Donnell, ritorna a casa e sente Anna, Bar Pali, litigare con qualcuno, ma scopre che si tratta solo di un videogames. La fidanzata infatti ha messo su una squadra con un gruppo di ragazzini, che ha cercato di convincere a saltare un giorno di scuola per poter completare la missione. Più tardi, l'agente segreto The Champs, Marsha Thomason, chiede l'aiuto del Nsys e Anna perché scoprano la verità su chi gestisce il contrabbando di denaro sporco di Antonio Marca, un potente criminale della zona. I servizi segreti hanno prelevato infatti la figlia Lucila, Fernanda Andrade, credendo di fermare le operazioni, ma si sono imbattute in un nulla di fatto. Mosley, Nia Long, tra l'altro si è proposta come finto investitore per poter avvicinare Marca. Intanto, Etty, Linda Hunt, incontra un certo Deng, Long Nguyen, e gli dà dei soldi perché l'accompagni da qualche parte. Callen e Anna invece si riuniscono con Tom Ray, Stephen Allerick, una vecchia conoscenza dell'agente del Nsys. Dix, Eric Christian Olsen, e Kenzie, Daniela Roy, si preoccupano invece di interrogare Lucila, che in apparenza sembra una donna innocua. Anna e Callen invece si preparano per fermare i due acquirenti di Marca, mentre Sam, L.L. e Callen in lunga, si unisce a Mosley per incontrare gli uomini del criminale grazie ad una missione sotto copertura. Mentre Sam colpisce il suo superiore con la propria recita, Kenzie riceve delle esplicite avances da Lucila, che non intende rispondere comunque ad alcuna delle loro domande. Grazie alle ricerche di Anna, il team scopre che il negozio di vestiti in cui sono entrati in precedenza è usato come base d'appoggio da Marca per il riciclaggio di denaro. Dix e Kenzie invece iniziano a pensare alle parole usate da Lucila, che decidono di sfruttare a proprio vantaggio. Mentre Sam convince l'investitore a fidarsi di lui, Kenzie realizza che la donna che stanno interrogando è in realtà la migliore amica d'infanzia e figlia della cameriera di famiglia. Nel terzo episodio, la squadra deve confrontarsi con il futuro. Sam sembra aver trovato un modo tutto suo per elaborare il lutto dovuto alla morte di Michelle. Anche se il dolore nella gente è forte, ha capito che deve considerare anche la presenza dei bambini nella sua vita. La gente ha deciso inoltre di coinvolgerli in una cerimonia privata con le ceneri della moglie, scegliendo di spargerle mentre si trova a bordo della sua nuova barca. Dix invece è sul punto di trasferirsi in un altro dipartimento. Mosley infatti continua a stargli con il fiato sul collo e deve dimostrare di poter dare un valore al team per poter rimanere. Mosley comunque non sembra immune al sorriso di Dix, anche se ha delle domande molto precise da porre alla gente sulla sua determinazione a far parte della squadra. Senza considerare che il protagonista toccherà ancora una volta l'argomento bambini con Kenzie, rimasto in sospeso in seguito all'incidente dell'ex cecchino. Nel frattempo, la squadra indaga sull'omicidio di un ufficiale della Marina, collegato ad un gruppo di motociclisti. Presto si scoprirà che la vittima è collegata all'intelligence cinese e dal furto di alcuni documenti che intendeva vendere al miglior offerente.